Da qui escono per cercare il cibo e poi tornano cariche, vedi? E perché non se lo mangiano subito? Noi non mettiamo da parte il cibo per l'inverno e loro fanno con meglio uomini. Anche le formiche hanno i loro problemi, sai, e obbediscono alle loro leggi. Ma non si urtano mai? Perché dovrebbero urtarsi. Anche gli uomini camminano, eppure non si urtano. Vai subito a casa. Non discutere, vai subito a casa. Vattene! Papà! Ma cosa vuoi? Vattene! Papà! Papà! Cattivo! Ah 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 ah! Ma! Ah 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 ah! Ah!